e Dov'è Stani? Perché non l'hai comprata? Ho detto che non l'ho trovata! Ah non l'hai trovata… io non potevo andare da un'altra parte… sono andata pure dal vinaio… pur quello stava chiuso Zaì ma, otto… che ci vogliate in чиve marqui?! Ottotinonio… Ma.. Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? Ma tu stai facendo male! Ma che stai facendo male! Grazie a tutti.